Le dichiarazioni di Sergio Marchionne sul futuro dello stabilimento Sevel e sulla possibile fine dell'alleanza con il gruppo PSA Peugeot Citroën, che occupa il 50% della produzione dello stabilimento di Atessa, preoccupa la fiume CGL. Per questo il sindacato chiede all'azienda l'apertura di un tavolo di confronto per capire come eventualmente salvaguardare i 6.300 dipendenti attuali. Un tavolo che dovrebbe riaprire anche il discorso sulle condizioni di lavoro all'interno della fabbrica dei veicoli commerciali. Per la FIOM le 130 nuove assunzioni annunciate da Sevel non sono sufficienti a bilanciare l'aumento della produzione previsto, circa 20.000 veicoli in più che abbatteranno il muro dei 300.000 Ducato. Si annunciano assunzioni ma non si spiega alla comunità che nel corso di quest'ultimo anno e mezzo sono andate via più persone di quante oggi vengono assunte. Quindi nel momento in cui non ci sono investimenti sulle linee, non ci sono investimenti sullo stabilimento. La domanda viene spontanea nel senso che se ci sono meno persone di quante lavoravano in azienda nel 2015, come può la Sevel produrre più furgoni? C'è poi un tema anche legato al premio di produzione che è stato dato ai lavoratori. La Fiat è uscita dal contratto nazionale, ha disdettato il contratto nazionale qualche anno fa e si è fatto un contratto tutto suo. Quel contratto non prevede l'aumento dei minimi tabellari, quindi significa che le retribuzioni ormai sono ferme da anni. L'unica cosa che la Fiat fa se riesce a raggiungere una condizione di riduzione dei costi, elargisce un premio. Ovviamente quel premio oggi i lavoratori ce l'hanno, potrebbero non averlo domani. La FIOM inoltre ha voluto richiamare l'attenzione sul trasporto pubblico da e verso la Sevel. Ci sono problemi sia con TUA che con ATM, l'azienda dei trasporti molisana, di servizi che, dicono i rappresentanti dei lavoratori, finiscono per disincentivare l'uso dei bus e amplificare quello dell'auto privata, creando disagi alla viabilità e aumentando lo smog. In mezz'ora infatti al cambio turno si muovono circa 2.500 veicoli, contemporaneamente più che nel centro di Roma.